Un saluto a tutti i campanari di YouTube, ci troviamo a Varazze in provincia di Savona, questa è la chiesa di San Domenico, detta chiesa dei frati, abbiamo un concerto di sei campane che adesso ascolteremo a distesa completa e nella melodia per la Santa Messa delle undici e mezza. A presto! Abbiamo qui le due campane antiche, la più grande, il 1683, e la più piccola, cinquecentesca. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.